Da quando sto con gli Avengers tutti mi chiedono come è quello, come è quell'altro. Allora, Capitano America è un pulciaro, ti paga un caffè neanche a marzallo, c'è Piragna in tasca. Top è simpatico, devo dire, solo che stai in fissa con un fantacalcio e parla solo di quello. La verova nera è fantastica, simpatica, bella perché è bellissima. C'è solo un po' di fedella ma basta parlarla un po' a distanza e neanche ci fai caso, insomma, sta vicino in pochino si sente. Vabbè, Hulk è un coatto. No, Iron Man è simpatico, è figo, sì, sì, sì. Poi appassionato di cucina fa una carbonara pazzesca, buonissima, ci invita spesso a cena, non è troppo con.